Ciao Come sapete non penso di essere molto adatta a fare i video smr però me lo avete chiesto e quindi mi va piacere accontentarvi in questo video farò le cose che più mi piace vedere nei video smr quindi inizierò con il togliere i pensieri negativi perché è una delle cose che più mi piacciono, che più mi rilassano e poi vivro delle coccole di massaggi al viso con le mani con un dischetto di cotone e con dei bennerdi e con dei bennerdi avevo iniziato questo video con la videocamera ma purtroppo dopo dieci minuti si surriscalla e considerato che vengo interrotta spesso da gatti e rumori esterni perché praticamente in dieci minuti non avevo fatto niente quindi ho deciso di registrare con il cellulare abbiate pazienza perché mi viene difficile guardare l'obiettivo del cellulare perché è molto piccolo mentre la videocamera ha un obiettivo grande quindi mi viene più facile guardarlo abbiate pazienza cominciamo iniziamo iniziamo Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Buonanotte. a tutti.